Novantotto. Novantotto. Double connectors. Congiunzioni coordinative. Congiunzioni coordinative. The journey was beautiful, but too tiring. Il viaggio è stato bello, ma faticoso. Il viaggio è stato bello, ma faticoso. Il treno era in orario, ma affollatissimo. L'albergo era accogliente, ma troppo caro. L'albergo era accogliente, ma troppo caro. Lui prende o l'autobus o il treno. Lui prende o l'autobus o il treno. Lui viene o stasera o domani mattina. Lui viene o stasera o domani mattina. He's going to stay either with us or in the hotel. Lui abita o da noi o in albergo. Lui parla sia lo spagnolo che l'inglese. Lei ha vissuto sia lo spagnolo che l'inglese. She has lived in Madrid as well as in London. Lei ha vissuto sia a Madrid che a Londra. Lei ha vissuto sia lo spagnolo che l'inglese. Lei conosce sia lo spagnolo che l'inglese. Lei conosce sia lo spagnolo che l'inglese. Lui non è solo stupido, ma anche pigro. Lei non è solo carina, ma anche intelligente. Lei non è solo carina, ma anche intelligente. Lei non parla solo tedesco, ma anche francese. Lei non parla solo tedesco, ma anche francese. I can neither play the piano nor the guitar. Io non so suonare né il pianoforte né la chitarra. Io non so suonare né il pianoforte né la chitarra. I can neither waltz nor do the samba. Non so ballare né il waltzer né la samba. Non so ballare né il waltzer né la samba. Non mi piace né l'opera né il balletto. Non mi piace né l'opera né il balletto. Quanto più in fretta lavori, tanto più presto finisci. The earlier you come, the earlier you can go. Quanto prima vieni, tanto prima puoi andartene. Quanto più si invecchia, tanto più pigri si diventa. Quanto più si invecchia, tanto più pigri si diventa. Si fermi, non sul dire il pianoforte né la chitarra-carnia. Grazie.